Ha raggiunto la maggiore continuità addirittura lo scorso anno, a 32 anni. Che scambio, alla fine deve arrendersi. Se non è Williams, 30 queen, ha perso 8-6 al tie-break del terzo. Lascia rimbalzare, poi preferisce sfogare così. Terzo game a zero, tenuto al servizio in questo match. Pironco, proveniente dalle qualificazioni. Nessun problema su questa seconda, contenuto.